proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta dei filtri di photoshop io dovete perdonarmi ma forse di portare la mascherina sono quasi completamente senza voce torniamo su galleria filtri e continuiamo in alfabetico per cui abbiamo effetto pennellate vediamo che qui il gioco si fa interessante perché noi non abbiamo più solo dei fader ma abbiamo anche il selettore per il tipo di pennello cominciamo col metterci a 0 e vediamo che sostanzialmente così a 0 a me sembra che l'effetto sia addirittura disattivato mi sembra di vedere l'immagine proprio come era originariamente nel momento in cui andiamo ad aumentare la dimensione del pennello l'abbiamo sfocata praticamente abbiamo applicato un tipo di sfocatura che ha sfruttato un algoritmo che simula delle pennellate se andiamo ad aumentare anche il contrasto vediamo di più la simulazione delle pennellate eccole qui ora se andiamo a cambiare tipo di pennello vediamo in maniera più chiara che cosa sta succedendo e lo vediamo in maniera ancora più chiara se variamo se cambiamo i valori che abbiamo dato ai fader per esempio contrasto io mi metto dove non vedo più questi artefatti che francamente possono piacere ma non è il mio caso e vado a cercare di capire quale può essere una dimensione pennello che può dare un minimo di interesse all'immagine dopodiché vediamo cosa succede cambiando pennello un effetto che indubbiamente può essere interessante anche se lo ammetto di difficile applicazione ecco con un pennello sottile diventa più interessante perché mantiene un pochino più di dettaglio e questo potrebbe potrebbe andare a simulare proprio una tela un dipinto qui se si vuole trasformare una foto in un dipinto per includerlo in una composizione e poi rifilarlo dentro di una cornice e attaccarla a un muro sempre all'interno della simulazione di photoshop intendo questo potrebbe essere molto interessante molto sfocato e qui stiamo andando verso sostanzialmente è un dipinto puntinato con un bel po di artefatti rgb almeno a me sembra di vedere oh che bello questo è proprio puntinismo puro pennello molto sfocato devo dire questo effetto molto interessante ben dosato può riservare delle soddisfazioni può essere molto caruccio questo mentre brillante vediamo un po che cosa si può cavare da brillante questo sembra un po estremo però può essere una qualche forma di dipinto anche questo ecco qui diminuiamo il contrasto così spariscono gli artefatti dimensione pennello andiamo a diminuirla un po questo quasi mi sembra che simuli di più la stampa piuttosto che un di più una stampa di bassa qualità però non si sa mai può sempre tornare utile come sempre nel momento in cui andiamo ad applicarlo l'abbiamo applicato in maniera distruttiva nei video precedenti ho fatto vedere come si può applicarlo su un oggetto avanzato in modo da non perdere l'originale in alternativa si può duplicare l'originale e andare ad applicare il livello soltanto sul livello sovrastante in questa maniera abbiamo l'originale conservato al di sotto nel caso avessimo sbagliato buttiamo via il primo livello e abbiamo l'originale da qui ripartire grazie a tutti